Amiche d'amici di Montediprocita.com Buonasera, siamo qui al Laboratorio delle Arti, quartiere Torrione di Montediprocita perché c'è la presentazione ufficiale di una candidata alle prossime politiche, Nunzia Scotti ovviamente noi ce l'abbiamo proprio qui, Nunzia Montese Doc il perché di questa scelta da parte di un giovane? Salve a tutti, in effetti sì, questa sera abbiamo un importante incontro di campagna elettorale oltre a me ci saranno altri due illustri di Fli che sono l'On. Bocchino e l'On. Muro ho ricevuto questa grande opportunità, questa proposta di candidatura che è stata un po' inaspettata nonostante io avessi frequentato già per parecchio tempo il coordinamento provinciale e regionale lì a Napoli però mi hanno onorato di questa opportunità e io con onore e d'orgoglio l'ho accettata insomma perché ho intrapreso questa strada politica a livello comunale e penso che siamo il mio dovere come politico che vuole andare avanti in questo mondo fare la mia parte e inoltrarmi anche in un mondo politico sovracomunale ho avuto fortunatamente questa possibilità Nunzia perché proprio fini Futuro e Libertà? Io sono di Sirpe proprio familiare, di alleanza nazionale ci siamo poi uniti con Forza Italia perché la politica è anche questa insomma è mutamento e cambiamento finalmente perché comunque è stata una grossa delusione il nostro Presidente l'On. Leffini ha avuto il coraggio diciamo di staccarsi di dire no a questa sudditanza Bossi-Berlusconi di creare un nuovo partito che in realtà adesso parte con dieci gradini in meno rispetto a quello che era la vecchia alleanza nazionale ma noi siamo veramente molto fiduciosi e io do fiducia incondizionata a questo partito perché può riconfermare quella che è la vera destra diciamo in Italia che sicuramente non può essere l'attuale coalizione di Centrodestra con il PDL insomma Allora parliamo invece dei metodi per arrivare questa legge elettorale effettivamente è una legge elettorale che non piace a nessuno però intanto ce l'abbiamo non abbiamo la possibilità di scegliere il candidato ma dobbiamo per forza di cosa attenerci a quello che viene scelto poi lì a Roma Sì questo diciamo è un grande problema e lo vivo personalmente perché io sono trentesima in lista quindi soprattutto con un partito come Fli è improbabile diciamo la mia elezione a deputato quest'anno insomma è più che altro un lavoro prospettico per quanto mi riguarda per quanto riguarda poi la legge elettorale effettivamente è un grosso problema perché è chiaro che io ho la fiducia ho acquistato la fiducia soprattutto dei miei compaesani che se dovessero insomma scrivere il mio nome non ci penserebbero due volte penso invece la legge elettorale lo impedisce e bisogna barrare soltanto diciamo il simbolo ma nonostante ciò visto che comunque come ho detto prima io do fiducia incondizionata a quello che è questo partito perché ha grande potenzialità di crescita in futuro penso che nel suo piccolo farà la sua parte e sarà destinato comunque a crescere in futuro Allora pensavo che nel paese c'è un gruppo poderoso che sostiene la tua candidatura e c'è anche qualche personaggio che all'interno dell'altra parte dell'area politica di liste civiche che si riconducono più specificatamente al centro-sinistra Questo è impreciso nel senso che la situazione politica a Montediprocida la conosciamo benissimo le due fazioni non si dividono più che altro per centro-destra e centro-sinistra sì è vero c'è un orientamento però all'interno di svolta popolare in questo caso ci sono persone che non sono spiccatamente di centro-sinistra ma piuttosto di centro comunque propendo diciamo verso destra sono proprio queste persone che mi stanno dando una grossa mano perché proprio come ideologia diciamo di base al di là di quella che è la politica montese che è un'altra cosa noi sappiamo bene che Montediprocida è un po' l'isola che non c'è soprattutto a livello politico quindi hanno deciso di appoggiarmi perché il discorso sovracomunale è chiaramente diverso insomma si parla di un qualcosa di più grande e quindi stanno con me, sono contenta e li ringrazio Allora stasera ci sarà anche l'onorevole Bocchino dovresti dire a Bocchino qualcosa per Montediprocida, qual è il primo punto? Il primo punto che poi rientra al 100% in quello che è il programma comunque di FLI soprattutto per la Campania e lo sviluppo turistico portare avanti questo famoso diciamo progetto dei campi flegrei e in generale diciamo della Campania perché le potenzialità diciamo del nostro paese sono molto grandi però spesso poco sfruttate quindi c'è bisogno anche di una persona che da un gradino più alto magari perché no anche dal Parlamento ci dia un sostegno diciamo in questo quindi sicuramente questo E allora noi di Montediprocida.com ovviamente ti facciamo l'in bocca al lupo per questa nuova avventura Ciao A questo punto penso che sarà il doveroso Un molto piacere passo la parola alla dottoressa Scott Si sente? Si Perfetto Ok, buonasera volevo rinnovare di nuovo il ringraziamento a voi per essere qui E soprattutto agli onorevoli, muro un pochino per essere qui in questo importante incontro di campagna elettorale che è un incontro di campagna elettorale particolare perché i cittadini si ritrovano a dover prendere delle decisioni a fare una scelta per la quale sono visibilmente confusi Mi capita come ha detto prima Gianluigi di sentire magari nelle chiacchiere informali con amici io non vado a votare Tuttavia l'articolo 48 della Costituzione parla chiaro, dice che il diritto di voto è un dovere civico Quindi l'assenzionismo poi soprattutto in questo periodo così critico sarebbe il colpo di grazia ad un'Italia che già zoppica Quindi come scegliere? Cioè quali sono i punti che ci possono far propendere più per un partito piuttosto che per un altro? Vi do la mia opinione In effetti è lo stesso ragionamento che ho fatto quando ho accettato questa candidatura con orgoglio insomma Sono principi che si riconducono alla normalità, a quello che dovrebbe essere la normalità che oggi in questa parola normalità è un po' travisata, spesso non si capisce cosa è la normalità Bisogna dare fiducia ad un partito che ha degli obiettivi prospettici per il futuro Un partito che vuole riconfermare degli ideali politici forti Un partito formato da gente con un po' di competenza Voi adesso vi starete chiedendo di stare lì seduti in queste belle poltrone comode C'è bisogno di competenza, perché spesso in televisione noi stiamo a guardare delle scene pietose Addirittura di dormi, di giochi, di fai E quindi ci viene un po' da chiederci, ma c'è bisogno di una competenza? Sì, in realtà sì, ci vorrebbe, perché quando si va lì a governare c'è bisogno di sapere di cosa si sta parlando C'è bisogno di avere degli strumenti, perché si è a capo di un paese insomma C'è bisogno di un partito fatto da persone oneste E' un partito che ha anche la forza di prendere delle decisioni Quelle decisioni che non sono per arrufianarsi, diciamo, l'opinione pubblica Ma sono quelle decisioni che servono per il paese Fatto questo elenco piccolissimo di cose che sembrerebbero normali Scatta poi il confronto con quello che è lo scenario politico di oggi Che ci troviamo a guardare di fronte, in procinto appunto di queste elezioni E scatta in conseguenza una selezione Perché coalizione di centrodestra, PDL, Grande Sud, Lega Nord Grande Sud, Lega Nord E Fratelli d'Italia Non corrisponde a nessuno dei quattro punti che ho elencato Basti pensare alla lista Campania 1, il PDL Per la quale non ho bisogno di aggiungere altro Il PD decanta tanto queste liste pulite Questa legalità, questo principio di legalità Ma dobbiamo sapere tutti che nelle file nazionali Il PD conta ben 12 persone che sono seguite Quindi dovute sottoppe dalla magistratura Inoltre dobbiamo dire che il PD, soprattutto in Campania 1 Ha puntato su tutto tranne sul campano Sì perché in effetti, forse per molti non è chiaro Ad esempio, faccio un esempio La campagna è divisa in Campania 1 e Campania 2 Noi siamo Campania 1, andiamo a votare Mettiamo la ex sul partito e stiamo dando la preferenza ad un partito Giusto? Tuttavia noi stiamo dando la possibilità a quelli della fila di Campania 1 Ad esempio del PD di andare a governare Giusto? Se il PD al numero 1 e al numero 3 ha gente dell'Azio, di Roma Magari, non di Napoli comunque Come possiamo immaginare che queste persone poi vanno lì a governare E fanno gli interessi del nostro territorio qui in Campania? È paradossale, non ce lo possiamo permettere E poi ci sono i movimenti Movimenti che hanno tanto fervore, spesso anche tanto folclore Ma mancano in quello che è poi la competenza, la capacità Cioè immaginiamo Grillo che sale domani Partito 5 Stelle, movimento 5 Stelle, che sale al governo Dovremmo investire i primi 3 anni per fargli capire come si governa Perché di politica non sanno niente Sperando che capiscano e poi dopo magari 3-4 anni iniziare quello che potrebbe essere un discorso L'Italia al momento non ce lo potrebbe essere Quindi dobbiamo prendere una decisione Ma scegliamo insomma con condizione di causa Poi faccio un passo indietro Molti di voi magari si staranno chiedendo come mai Ci sono io su questo pacco, una 25enne Perché candidata l'eleo insomma? Certo, sembrerebbe impossibile che una 25enne Che viene da un paesino di provincia Sia candidata alla Camera dei Deputati E invece no Perché basta mostrare il proprio interesse Mostrare le proprie capacità E metterci la faccia E poi le cose vengono più semplici di quello che pensiamo Senza nessun complotto dietro Senza nessuna vega Senza nessun se o ma insomma Quindi le motivazioni sono ricondotte Sono tante motivazioni Però secondo me quella principale E' quella che anche i grandi della politica italiana Hanno capito che siamo arrivati ad un punto talmente cruciale Della storia politica italiana Per cui se non si fa veramente qualcosa Altro che ragionamenti tipo poltrone, vitalizi, potere Non ce n'è più per nessuno Qua andiamo in una situazione di default Di rivoluzione Magari ci ritroveremo con una forma di governo anarchica Tribale magari Perché la gente è sanca La gente non ce la fa più Quindi di conseguenza Dà credibilità, dà fiducia Ad un movimento come Grislo per esempio Come un movimento 5 Stelle perché è stato disperato Però se speriamo nella nascita di una terza repubblica italiana Mettendoci nelle mani di un movimento parapolitico Pararivoluzionario Allora ci rendiamo conto che siamo di fronte a un grosso problema Adesso faccio un passo indietro Voglio dire che io sono partita da una politica comunale Qui a Monte di Procida Ho cercato di creare un po' di aggregazione giovanile Con un po' di difficoltà Spero in parte di esserci riuscita Cioè nel pezzo ho cercato di fare una piccola parte Un amico un giorno mi ha fatto ascoltare una canzone Io nei miei discorsi Tento sempre di fare un parallelo con la musica Perché per i giovani è molto più comprensibile La canzone degli Up and Awards Si chiama Il Paese Reale La frase più significativa dice Adesso fa qualcosa che serva Perché anche per te il tuo paese è una merda Infatti qua ci vorrebbe un grande picco Però ci stava tutto insomma Io penso che noi ragazzi Dobbiamo fare delle scelte oculate oggi Perché domani se non facciamo queste scelte oculate Non possiamo permetterci di lamentarci Ognuno di noi dovrebbe fare un minimo Per cercare di migliorare le cose E io con questa diciamo Ho intrapreso questo mondo Della politica sovracomunale Anche per cercare di fare la mia parte Penso che questa sia la mia parte insomma Quindi ognuno di noi deve cercare Di prendere una decisione cosciente oggi Per ritrovarci in domani Ad essere tranquilli Senza doversi lamentare insomma Ipotizziamo la nascita di una terza repubblica L'ho detto anche prima Speriamo che questa terza repubblica Che non nasce con questa proliferazione Di movimenti Speriamo in maniera diversa Sia un attimo più vicina ai cittadini Cioè c'è bisogno di un reavvicinamento Tra eletto e elettore Cioè una classe dirigente Che non sia al di sopra della popolazione Pensi che sia parte di essa appunto E il Fli in Campania In Campania 1 ha proprio assolto a questo dovere Perché se andiamo prima L'ha detto già Luigi Se andiamo a vedere la lista Campania 1 Fli Sono persone che a vario titolo Operano sul territorio di Napoli e provincia Come amministratori locali come me Persone che operano nel sociale Oppure professionisti Quindi le basi insomma Per dare fiducia a Fli Ci sono tutte Inoltre voglio dire una cosa Per la quale sono veramente molto speranzosa Io come giovane amministratore Partecipo a vari corsi di formazione Travite l'ANCI Che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Travite vari enti Che organizzano corsi di formazione Proprio per i politici Politico-istituzionale Sto avendo la possibilità Di confrontarmi a 360 gradi Con i politici giovani Di tutta Italia Ci confrontiamo A prescindere dalla regione di appartenenza A prescindere dal colore politico E la cosa che mi fa sperare È il fatto che tutti quanti Hanno voglia di rinuovare Questa classe politica Che di fatto Quella vecchia Fa una politica Che è un po' anacronistica Cioè quindi si rivolge un po' Ma adesso ci dobbiamo rivolgere al futuro Questi nuovi politici Hanno idee pulite Hanno idee veramente Hanno voglia di fare E quindi per le nuove generazioni Sicuramente c'è una speranza Dobbiamo spingere Queste nuove generazioni politici Ad andare avanti Perché hanno proprio necessità Hanno bisogno di fiducia Da parte della popolazione Adesso concludo Spiegandovi perché Secondo me Bisogna votare Fli Io ho avuto la possibilità Di frequentare Anche diciamo Il passato Il coordinamento provinciale Il coordinamento regionale Del Fli Ho conosciuto persone Meravigliose Ringrazio anche Qui ci sono due candidate Emilia e Nadia Qui nella prima fila Che veramente Abbiamo creato un gruppo Sono persone solidali Sono persone Veramente comparte Vogliono lavorare E si impegnano Per cui proprio A livello personale Io ho capito Che sono persone Che hanno proprio Voglia di fare Bisogna dare fiducia A questo gruppo Che secondo me Ha tanto da dire Da dare E poi vorrei un attimo Fare un passo Un po' più in alto Sì perché Io penso che Anche i vertici Diciamo di questo partito Meritino moltissimo La nostra stima La nostra fiducia Al di là Diciamo del rapporto Che io ho Con Italia E con Luigi Luigi E noi oggi Io personalmente Spero anche voi Sono pronta A dare fiducia Incondizionata A questo partito E spero Che un domani Riesca a far rivalere Quello che è Quello che è Il concetto Della destra Italiana E no Al berlusconismo A svincolarsi Da questo A svincolarsi Diciamo Da questa pressione Bossi Berlusconi Che un po' Tarpava le ali E quindi è riuscito A creare Un nuovo partito Che parliamoci Rispetto all'alleanza Nazionale Parti un attimino Dieci gradini Più giù Perché purtroppo La politica È anche questo Però siamo pronti A ripartire Perché come Proprio sangue Noi come famiglia Siamo l'alleanza Nazionale Per cui io sono Veramente fiduciosa Che finalmente Anche Fli Possa riconfermare Quella che è La vera Destra italiana Cioè Non possiamo dire Che il Pdl Può rappresentare Una destra In Italia Il nostro slogan Elettorale Come Fli È Neto Legalità E nazione Secondo voi Un personaggio Come quello Che può essere Berlusconi E il Pdl Può mai rispeccare Questi concetti Assolutamente No Vogliamo parlare Magari di tutti Quei partiti satelliti Che si sono creati Attorno a lui Perché magari hanno detto No assolutamente Il Pdl Io non ci sto Non va bene Non rientra proprio Nei miei principi Però comunque Dando ad esempio Da preferenza Fratelli d'Italia Comunque sia Sono politici Che io stimo Perché le ho seguite Anche in passato Però tuttavia Queste scelte Inficiano moltissimo Sulla loro credibilità Invece Dire no A una sudditanza Dire no A un fiato sul collo A non poter operare Chiaramente Ci dà Da capire Che quelle sono persone Che vogliono fare altro Cioè Che sono Distaccate Da una politica Personalistica Da una politica E molti adesso Stanno borbottando E allora Perché fine a suo tempo Ha deciso di annullare Alleanza nazionale Fondersi con forze tali E creare il pidiolo Vabbè La politica Ha dei meccanismi Particolari Insomma Comunque Tra 92 93 94 Berlusconi È stato Diciamo L'artefice Della nasce Della seconda repubblica Con la diffusione Della lega E lo scandalo Romani politico Quindi Ha rappresentato Comunque Una svolta Per cui È È sbagliato Nascondersi Dietro E dire No Nessuno Ha dato mai Fiducia A Berlusconi Molti Ce l'hanno Dato Perché magari Si pensava Che potesse Veritarla Questa fiducia Di certo Possiamo anche Dire Che un uomo Politico Con la P Maiuscola Come fini Avrebbe potuto O dovuto Sentire Puzza Di bruciato Non l'ha fatto Perché comunque È raro umano E noi Oggi Io personalmente Spero anche voi Sono pronta A dare fiducia Incondizionata A questo partito E spero Che un domani Riesca a far Rivalere Quello che è Quello che è Il concetto Della destra Italiana Ormai Completamente Diciamo Un po' Spaisato Un po' Perso Spero di avervi dato Dei punti Importanti Di riflessione Spero soprattutto Che questa riflessione Poi vi porta a votarci E questo è Anche importante Quindi 24 e 25 Mi raccomando Sulla scheda rosa Abbiamo anche Di facsimili Qua sulla scheda rosa Della camera Basterà per votarci Barrare il simbolo Fli Futuro e libertà Vi ringrazio Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti